Cucù, il governo non c'è più, amico del sole, cavaliere, bisogna che tu ripetti il cavallo nella stalla e te con lui. Non hai avuto quello che ti speravi, è stata l'ultima tua chance, ora fa la finita, devi salire al colle, se non ci vai da te ti ci portano, ci accompagnano e hai ancora una volta bleffato. Ma sono venuti a vederti e ti hanno visto che avevi semplicemente, sai cosa, 2-7 contro un poker. Di conseguenza è l'ora di fare la finita. Un'altra cosa, te hai minacciato le elezioni, ma forse stavi trascurando che non è nelle tue prerogative chiedere le elezioni, è il capo dello Stato che valuterà, secondo dettami costituzionali, la possibilità di creare dei governi alternativi. Quindi chiederà agli ex Presidenti della Repubblica, ai capi dei partiti, valuterà tutto quello che ci sarà da valutare e farà la sua scelta. Hai capito? Quindi anche questa arma è stata spuntata. 308, non sono la metà di 630. Ti sa fare conti? Addio con il lacrimata sepoltura, non lasci un buon ricordo di te. Arrivederci.